Sarà Monica Calamai, coordinatrice della Community Donne Protagoniste in Sanità, ad aprile, giovedì 16 settembre alle 14.30, l'incontro in programma all'Istituto Ortopedico Rezzoli di Bologna, in cui alla presenza del Presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini e del Direttore Generale del Rezzoli Anselmo Campagna verranno presentati i risultati dei tavoli di lavoro che si sono svolti online dal 1 al 10 settembre. Sono 24 tavoli, tutti di sole donne appartenenti ai settori più diversi e complementari dell'universo sanità che hanno individuato gli elementi di possibile innovazione all'interno di ognuna delle sei missioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'incontro, che si svolgerà sia in presenza che online, continuerà venerdì 17 per concludersi con la presentazione di una proposta complessiva di modernizzazione della sanità italiana dal punto di vista delle donne. Con questo obiettivo infatti si è formata nello scorso mese di maggio la Community Donne Protagoniste, che riunisce donne che operano in posizioni di vertice nell'ambito del sistema sanitario pubblico e privato, delle imprese, della ricerca, delle istituzioni, della politica e della comunicazione. Il dossier finale dà il titolo Una proposta di futuro che uscirà da questi mesi di intenso lavoro, dice la coordinatrice della Community, Monica Calamai, Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Territoriale di Ferrara, da cui è partita l'idea di base della Community, sarà consegnato al Governo, alle Regioni e al Parlamento. Le donne, che rappresentano da tempo la maggioranza degli operatori della sanità tra ospedale e territorio, pur recoprendo ruoli di grande responsabilità, non contano ancora oggi su una presenza paritaria nei ruoli dirigenziali e questo ha impedito loro di incidere in modo significativo sull'orientamento della sanità italiana. Le protagoniste, togliendo ciascuna delle partecipanti dalla solitudine dei singoli ruoli, soprattutto apicali, si propongono di abbattere il divario di genere nella creazione di un sistema sanitario che tenga conto delle mentalità e dei saperi sia delle donne che degli uomini. È una scommessa sul futuro che fa piazza pulita di un altro stereotipo che vuole le donne incapaci di allearsi fra di loro. Grazie.